Musica Care amiche e cari amici di Outcast, benvenuti in questa nuova puntata di Sala Giochi del 2021 e buon anno a tutti, io sono Gianni Mancini e oggi vi parlerò di There Is No Game Bene, se siete ancora qui ad ascoltare siete entrati subito nel tenore, nel mood di questo gioco che fa degli scherzi e della continua rottura della quarta parete i suoi punti di forza There Is No Game attraverso la voce del narratore, che è il gioco stesso ci convincerà, cercherà di convincerci che non c'è nessun gioco a cui giocare per cui l'unica opzione, l'unico consiglio che ci dà è quello di uscire e di fare altre cose come leggere un libro, guardare una serie televisiva o semplicemente uscire fuori e fare una passeggiata noi, giocatori, testardi come siamo invece dobbiamo dimostrare il contrario e faremo questo con una serie di espedienti geniali una delle cose più divertenti che mi sia capitata sotto mano in assoluto la più divertente del 2020 anche perché, visto il tenore dei giochi che sono abituato a giocare se qualcuno mi segue da un po' di tempo diciamo che questa è assolutamente la cosa più divertente che io abbia giocato oltre a Liar of the Clockwork God questi due sono gli unici giochi divertenti che ho giocato nel 2020 è uscito, credo, nell'estate del 2020 su PC ma poi ha fatto la sua comparsa sui dispositivi mobili quindi Android e iOS recentissimamente, proprio a fine anno e io ne ho acquistata una copia perché lo tenevo sott'occhio da un po' di tempo ne ho acquistata una copia per il mio tablet Android antiquato e devo dire che gira benissimo non ha requisiti particolarmente alti questo gioco è in pixel art è un'avventura a punta e clicca sostanzialmente ma quello che colpisce di questo gioco è appunto la continua serie di gag le prese in giro e la rottura della quarta parete che in realtà non esiste è proprio totalmente squarciata la quarta parete il narratore si rivolge in continuazione al giocatore e devo dire che è uno dei migliori se non forse penso l'unico esempio di meta narrativa che mi ha colpito di più in questo tempo è un gioco appunto che parla di videogiochi di interfacce utenti di generi sopravvalutati e di cliché e della brutta piega che stanno prendendo i videogiochi free to play qui rinominati free to pay non aggiungerei altro per questo there is no game perché merita assolutamente di essere scoperto vi dico anche che l'ha scoperto anche Neil Druckmann recentissimamente e ne ha fatto un post per cui su twitter ne ha fatto un tweet scusate per cui credo che da qui in poi il gioco verrà scoperto da moltissimi giocatori che effettivamente chi ha vissuto gli anni 90 il periodo d'oro delle avventure grafiche deve assolutamente giocare perché è una continua scoperta è una continua risata è una continua citazione è geniale il programmatore credo che abbia fatto un lavoro di estremo amore nei confronti dei videogiochi in particolare delle avventure grafiche ma cita molti altri giochi all'interno di questo there is no game io lo consiglio a tutti veramente un piccolo capolavoro che va assolutamente scoperto e giocato costa una cavolata quindi fatelo se amate i videogiochi giocatelo e divertitevi un saluto a tutti ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.